Ma non prendi sonno? Che c'è? Tornatene a dormire, Viviana, no? Ma che sta succedendo? Io lo sento che sta succedendo qualcosa. Viviana, vattene a letto. Ma te lo dico sul serio adesso. Guarda. Carmine, uno se vuole può fare un passo indietro. Non può cancellare quello che ha fatto. Ma può fare qualcos'altro. Dio perdona a tutti. Ma sai perché non ti ho mai tenuto al corrente delle cose che hai fatto? Perché ho voluto sempre proteggerti. proteggere te e la nostra famiglia sopra ogni cosa. E adesso sto solo facendo quello che ho sempre fatto. Ma ten a letto, ah? E adesso sto solo facendo la tua terra. Grazie a tutti